Grazie. Puoi dirci che hai visto questa sera nel quinto segno del 43esimo distritto? Sì, ho visto delle persone portare dentro un urna con il sigillo. Hai fotografato con lui? Sì, con il mio cellulare. C'è lo stesso questo? No, non c'è problema, aspettiamo. Allora, Jack, qui abbiamo una foto che hai scattato e questo il sigillo è strappato. Sì. Di sua verità. Allora, Jack, che cosa le ha? Semplicemente le lezioni. Quindi vediamo che non potrebbe definizione. Vi darei lo stesso possibile a chiunque testimoniassi nella prima volta. Prezi, io. Allora, Jack, è stato arrestato, dopo? Quindi che va a mettere già le persone giugnate. Fate lasciare capire. Scusa, vostro amore, sto intendo un contesto e non suonare. Sì, signor Florico. Che chi è stato arrestato, sapete? E aveva registrato una certa. E aveva registrato una certa. Così, questa è stata la seconda volta, in otto mesi, in cui vede una cosa che non le piace e scatta un foto. Esatto. Certo, al suo padre lo ha detto spesso. Le tue volte non lo definiresti. L'ultima volta è stata fermata con il tuo senso. Scusa, puoi decidere? Sì, è stato fermato, ma non la vedo. La gente non sembrava d'accordo. La gente si sbaglia. Non ti spessi? No, solo quando ho detto. Sì, questo è stato arrestato, chiesto di smetterla, si è infiutato così, ma c'è attenzionato la polizia. Quanto ho fatto, ho tornato? Spera di questione, non provvedicono da fuori. Assolutamente, dopo dei giorni passi. Ma lui dice che resta... Erano dei detenti, proprio io ho chiesto a voi rispostate. Che risposta? Sembra che il giovane si li ha fatto... Scusate, ho trovato un problema per fare i capricci, devo camminare ogni venti minuti o il mio dottore mi scrive. Vuole che faccia una pausa? No, 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 continui, scusate. Solo un'ultima domanda, signor Patry. Può spiegarci perché quel rumor mi dà il sigillo strappato? Non posso andare, ma si è detto, ha strappato il sigillo. Non ho alcun domanda, signor Patry. Lei, il Partito Repubblicano, è così. Non capisco, ma si è tricco tutto questo. Quali di postiva l'invento? La reazione, la struttura. Ah, le preferenze le coraglie, sì. Non puoi. Perché lo scatto è... Il Partito Repubblicano, è così. Chiediamo che... Il Paestro non è uno stato che non si può chiedere. Il Partito Repubblicano, è così. Il Partito Repubblicano, è così. Il Partito Repubblicano, è così. Grazie. Grazie. Grazie.